Sono Franco Bazzara, Presidente del Bazzar Espresso, una delle molte rostevole rostevole in Trieste. Durante la mia vita, ho stato respirato il aroma del coffe. Il mio padre, Dionisio, mi aspetta e il mio frate, Mauro, condividendo con noi il suo incredibile passione per questo drink. Passione ci ha portato durante i anni, insieme con il desiderio di spiegare la cultura italiana dell'espresso all'interno del mondo. Questo è il motivo, quando siamo arrivati a sapere che l'Italian Espresso è applicato come un territorio del mondo culturale di UNESCO, il primo desiderio che il mio frate, Mauro, e io avevamo, sulle nostre idee, era di partire lo tanto possibile. In Bazzar Espresso, la nostra missione, sulla quale la compagnia è stata basata, che è stata basata dal nostro padre, Dionisio, è l'enhancamento della tradizione italiana. Il nostro obiettivo finale, con tutte le nostre iniziative e eventi, è sempre stato di creare un network di professionisti che lavorano insieme e cooperativamente, in order di sviluppare un'awareness sull'industria italiana dell'industria italiana. Questo ci ha portato alla pubblicazione di 4 libri, una lunga lista di video, sul nostro canale, raccontando tutti i segreti dettagli del vino di coffee e la creazione di un evento biannuale chiamato Trieste Coffee Experts, portando insieme tutti i migliori attori dell'industria italiana dell'industria italiana. Tutti noi siamo parte di questa città di produzione. Tutti noi siamo aware dell'importanza di aumentare il rinno più importante di questa città, il nostro amico Espresso. Inoltre, vorrei ringraziare tutti per aver guardato l'applicazione del nostro Espresso come Unesco's Intangible Cultural World Heritage, promuovato dai nostri amici e amici Erl Giorgio Cabalini di Sassoferrato con l'initiative sul web www.ritodelcaffè.it e sign the petition Be the change you wish to see in the world Mahatma Gandhi said once www.ritodelcaffè.it Sign the petition Thank you, my friends and cheers to Italian Espresso!